Adesso vi racconto che cosa è successo oggi perché io sono rimasto scioccato, cioè secondo me è una cosa assurda. Premessa, è qualche giorno che la nonna non sta benissimo, ha dei giramenti di testa, quando si alza si sente molto debole, fa fatica a spostarsi e dopo uno, due, tre giorni che lo dice, ovviamente al primo giorno non vuole mai, ma al terzo la convinco, andiamo dal dottore. Bene, facciamo quello che dobbiamo fare, spieghiamo tutto e dottore bravissimo, tra l'altro, che sa sempre come prenderla, che domande farle, come farla aprire, che cosa scopriamo? Praticamente sono tre, quattro giorni che la nonna sta male perché è stata troppo bene. Cosa vuol dire? Quando lei un giorno ha deciso che si sentiva magnificamente in forze, ha preso, e adesso io faccio ancora fatica a capire, se è una cosa normale o se è una cosa assurda, però visto che si sentiva troppo bene, una mattina si alza e fa io non prendo più le medicine, non prendo più la medicina per la pressione, non prendo più la medicina per la tiroide, sto così bene che non prendo più niente. Quindi sono tre giorni che brancola praticamente, un pochettino anche credo che si veda, nel buio, che si agita, che non si sente bene perché ha deciso che lei non doveva più prendere le medicine.